Abbiamo fatto una grande prestazione, come Benete lo dice, ha mancato un po' di fortuna, sento che l'abbiamo giocato fino alla fine, abbiamo ottenuto la partita viva, abbiamo lottato, ma ha mancato qualcosa che ovviamente noi non lo capiamo perché non riusciamo di questa situazione. Come sempre che la mettiamo tutta in campo, che lasciamo tutto su ogni palla, su ogni minuto in partita e ovviamente questo non c'è niente da dire ai miei compagni perché sappiamo che tutti che andiamo in campo la proviamo al 100%. Una giocata che loro fanno tanti perché provano a fare tanti cross, oggi abbiamo preso, non lo so, tanti cross e ovviamente su una giocata, Joao Mario è rimasto lì da solo davanti al portiere, ha fatto gol e noi anche abbiamo avuto l'opportunità per fare gol e non l'abbiamo potuto fare. Questa è la partita e questo è il calcio e abbiamo lasciato tutto in campo. Lavoriamo tutti i giorni, si vede i compagni come lasciano tutto in ogni allenamento e ovviamente questo ti fa convincere che siamo lì, che siamo lì vivi per lottare e dobbiamo fare la lotta fino alla fine.